Ciao, io sono Fabiana e sono grandama da quest'anno, il primo anno, e vengo in Contrada da ormai 22 anni. Avevo 25 anni quando sono entrata. Poi pian pianino mi sono avvicinata un po' a quello che per me è la sfilata, perché io mi occupo della commissione costumi, oltre a essere grandama. Mi sono avvicinata con Trada perché era un periodo particolare nella mia vita e avevo voglia da tanti anni di entrare in Contrada, non ho mai avuto occasione, poi con la mia amica mi ha detto, ma dai prova, e sono così. Ho provato una sera, c'era un corso di latinoamericano, in realtà. Io mi auguro che vengano sempre più ragazzini, più famiglie anche. Ciao, mi chiamo Francesca Conselletti e sono al primo anno di reggenza come Castellana della Contrada Flora. È una grande responsabilità e sicuramente l'emozione è tanta, però sono tanti anche i sacrifici che si fanno e forse finché non arrivi a ricoprire veramente questo ruolo non lo capisci. Mio nonno era a priori di Contrada. La mia nonna cuciva, faceva parte del gruppo Sarte e infatti la veletta che indosserò il giorno del palio è stata proprio ricamata dalla mia nonna. Ho iniziato a frequentare la Contrada per caso, perché i miei amici già frequentavano. La sera mi hanno convinta ad andare, insomma, mi ricordo ancora, era un lunedì di febbraio del 2014 e c'era poca gente, però insomma, subito ho trovato un ambiente accogliente. Ho subito capito che qua poteva essere un luogo che avrei potuto chiamare casa. L'augurio che faccia tutti è divertirci.